Il Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, in occasione della recente riapertura delle scuole, ha già attivato in tutta la provincia numerosi servizi di prevenzione e di controllo nei pressi degli istituti scolastici. Gli assetti operativi messi in campo fanno parte di un'operazione che il Comando Provinciale chiama in gergo scuole sicure. La storica avvicinanza dei carabinieri e cittadini, dimostrata costantemente e consolidata da più di 200 anni di storia, diventa anche in questo caso la traccia principale del percorso di sicurezza. Vicinanza dell'arma quindi nei confronti degli studenti, dei docenti e dei genitori è volta ad alimentare quel rapporto indissolubile di fiducia essenziale per un sano ambiente sociale che aspira appunto alla sicurezza. Le forze che l'arma agrigentina sta mettendo in campo ormai da qualche giorno sono rappresentate da pattuglie con autovetture nei colori di istituto e appiedate, formate da carabinieri in uniforme per i servizi di prevenzione e controllo. Saranno svolti anche i servizi in borghese, sono in corso inoltre specifici servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle fasce orarie più sensibili e in orario notturno di prevenzione contro i reati di tipo predatorio o gli atti vandalici e danni delle scuole. Massima attenzione sarà anche rivolta agli aspetti legati al fenomeno del bullismo e in generale a tutela delle vittime di violenza di genere, cioè anche in relazione alla recente adozione del nuovo Codice Rosso. È già stato rilevato dai militari nel corso dei primi servizi svolti particolare gradimento da parte dei giovani per la loro presenza rassicurante. Anche nel corso di questo nuovo anno scolastico su tutto il territorio della provincia si svolgeranno inoltre le conferenze sulla legalità che saranno tenute dai capitani dei carabinieri, comandanti delle compagnie di Agrigento, Sciacca, Riccata, Cammarata e Kenicattì, ognuno per il proprio territorio di competenza. Durante l'anno scolastico precedente le conferenze svolte dai carabinieri di Agrigento hanno suscitato molto interesse tra i giovani studenti, soprattutto con riferimento ai temi trattati che rivestono carattere di particolare attualità come il cyberbullismo e il revenge porn. Grazie.